Snowpiercer è la prima grande produzione internazionale di Bong Joon-ho, uno dei migliori registi del cinema coreano che il cinema coreano ha prodotto nel corso degli ultimi anni e non a caso appunto questo film è anche prodotto dall'altro grande nome del cinema coreano che si è imposta all'attenzione mondiale come Park Chan-buk e nonostante appunto sia un film che ha all'interno capitali, presenze straniere quindi in qualche modo l'avvicinamento ad un universo hollywoodiano c'è subito da dire che Bong non ha assolutamente tradito nulla di quello che è il suo stile, il suo spirito, la sua idea di cinema e di regia, tutto questo nonostante le polemiche che hanno circondato la questione del cut e delle diatribe tra il regista e i Weinstein. Tratto da un fumetto transalpino racconta di una sorta di cupa favola distopica dove il mondo è stato ridotto ad un deserto glaciale in seguito ad un maldestro intervento umano per contrastare il riscaldamento globale e quel poco che resta dell'umanità gira intorno al mondo in una sorta di anello ferroviario a bordo di un treno che è strettamente, nettamente, crudelmente diviso in classi. Nelle classi di testa, appunto, nelle carrozze di testa le classi sociali più elevate, nelle carrozze di coda invece, diciamo, il nuovo proletariato di questo mondo ferroviario che è rimasto. Il film racconta la vicenda di Chris Evans che dal fondo del treno tenta di guidare una rivoluzione per prendere possesso della locomotiva e quindi del treno e quindi dell'umanità tutta per ribaltare sorti e situazioni. Ecco, è un film, prima di tutto, va detto, un grande film d'azione che usa gli spazi claustrofobici di un treno, appunto, in maniera molto intelligente, in maniera estremamente funzionale invece all'esplosione del dinamismo, della violenza, dell'emozione ed è un film che è in grado comunque di rappresentare un cinema di genere, in questo caso fantascienza distopica se vogliamo, e di declinarlo con grande intelligenza perché Snowpiercer non è soltanto appunto un film molto avvincente, molto emozionante, ma è anche un'opera che spinge a riflettere su alcuni aspetti della condizione umana. Non c'è appunto, dicevamo, alcuna concessione al buonismo internazionale hollywoodiano, se così vogliamo chiamarlo, perché non c'è nemmeno un happy ending tradizionalmente inteso, e Snowpiercer è una riflessione cupissima sulla natura animale e crudele ed egoista dell'animo umano, in qualche modo, e anche di una situazione sociale che è paradossalmente, o forse nemmeno poi più di tanto, molto vicina a quella attuale, che appunto è basata su uno sfruttamento reciproco, in qualche modo, su una serie di crudeltà messe in atto scientemente all'interno di quello che è un macro o un microsistema da organizzare, da mantenere, da tutelare come se fosse un vero e proprio ecosistema.